Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Antonella Fiordelisi oggi è alla prima di un film e la sua giornata è iniziata questa mattina presto. Nel frattempo, ieri, ha presenziato a un evento beauty dove ha potuto conoscere, provare e quindi sponsorizzare alcuni prodotti in anteprima. Antonella ha una bella presenza, non a caso viene scelta per eventi del genere. Poi è proprio questo il suo lavoro, quindi chi meglio di lei? All'evento di ieri ha indossato un outfit prevalentemente bianco, formato da pantaloni a gamba larga a palazzo e camicione oversize. Vi è piaciuto il suo abbigliamento per l'occasione? Inoltre, l'è stato consigliato dal suo compagno Mariano De Matteis. Cosa ne pensate? Simpaticamente, Antonella ha raccontato che Mariano le ha consigliato questo outfit rispetto ad un altro perché più coprente. Ma ora passiamo alla nuova passione di Antonella. Come abbiamo detto in un video precedente, Antonella ogni venerdì a partire da giugno pubblicherà il tutorial di un piatto di cucina. Nel frattempo, ieri, ha preparato pasta, provola e patate, un piatto che le ha insegnato uno chef stellato. Ed il risultato, dobbiamo ammettere che è veramente da voto 10 come lei stessa ha affermato. Questa ricetta uscirà il 7 giugno insieme al tutorial e una volta a settimana ne pubblicherà una nuova. Bene amici, ora aspettiamo l'evento di oggi con i nuovi aggiornamenti. Se non vuoi perderti nessun aggiornamento riguardante i tuoi personaggi preferiti, iscriviti gratis.